Musica Corteo degli studenti contro l'alternanza scuola-lavoro, manifestazioni anche a Benevento, contestati i pass nei bagni e le scuole pericolanti. Dopo la rissa il questore ha sequestrato il locale, il provvedimento a Trese Terme, esercizio pubblico chiuso per 15 giorni. Detenuto scoperto a mandare messaggi su Facebook dal carcere e l'operazione degli agenti penitenziari in servizio nella struttura per minori di Airola, sequestrato uno smartphone. Lotta al contrabbando dall'inizio dell'anno alla finanza, eseguito il sequestro di oltre 10 tonnellate di sigarette, 35 le persone arrestate. Cosa fare in caso di alluvioni, terremoto o maremoto? I volontari daranno semplici consigli. Io non rischio sabato 14 ottobre nelle piazze dei capoluoghi. L'iniziativa anche nel capoluogo Sennita. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV. Ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito. Cominciato l'autunno caldo della scuola. Studenti in piazza oggi in tutta Italia per scioperare contro l'alternanza scuola-lavoro. Manifestazione e slogan anche nella città di Benevento. Il servizio. Cori e santi sono l'alternanza scuola-lavoro! Cori e santi sono l'alternanza scuola-lavoro! Il ritrovo in piazza Risorgimento di Benevento. Molte le proteste in tutta Italia. E dal risposto all'appello anche il capoluogo Sennita ha guidato la mobilitazione per le strade del centro con cori e slogan e il collettivo autonomo studentesco. Dobbiamo dire no perché dobbiamo far vedere che noi studenti siamo il futuro di questa nazione. Solo noi studenti sappiamo quello che viviamo durante l'alternanza scuola-lavoro ed è per questo che scendiamo nelle piazze a denunciarlo. L'alternanza scuola-lavoro insieme al Jobs Act non sono nient'altro. Da un lato vediamo la precarizzazione del lavoro, mentre dall'altro l'aziendalizzazione della scuola. Noi diciamo no a tutto questo. Siamo stanchi di lavorare gratis per aziende. Siamo stanchi, siamo in piazza perché vogliamo ribellarci e non vogliamo più sottostare. No dunque all'alternanza scuola-lavoro, alla buona scuola, agli invalsi, alla figura del preside manager. Sì invece a maggiori investimenti sulla sicurezza degli istituti. Gli studenti e i nostri microfoni hanno anche criticato una novità che ormai di attualità in molti istituti. Una sorta di pass per uscire dall'aula e andare in bagno. Per quanto riguarda l'industriale e il liceo artistico, sono le uniche scuole per ora che hanno avuto questa notizia. Tra l'altro l'artistico sin dal primo giorno di scuola è arrivato a scuola e hanno trovato questi pass per andare nei bagni con i quali se ti trovano nel bagno senza ti fanno una multa o una nota. Mentre l'industriale probabilmente, avendo preso come spunto la situazione che si era creata all'artistico, dopo un paio di settimane dell'inizio della scuola, ha anche l'industriale inserito questa nuova legge. Noi ovviamente ci opponiamo perché soprattutto ci vuole all'industriale, abbiamo una scuola che ci cade in testa, abbiamo una scuola dove gli studenti non sono sicuri neanche nelle classi, hanno un'ala, l'ala nuova dell'industriale che è senza corrente, non avrà i termosifoni, la provincia ha già avvisato che i termosifoni non ci saranno, la corrente non c'è già da adesso e anche l'ala più buia essendo la seconda. La stessa cosa all'artistico, ci sono finestre mantenute da scotch, secchi nei corridoi per quando piove l'acqua e gli piove nella scuola, però i presti hanno ben pensato che invece magari di premere sulla provincia e di far aggiustare tutte quelle problematiche edilizie che ci sono all'interno di entrambe le scuole, hanno ben pensato di mettere questo tesserino e di reprimere gli studenti. Il corteo è giunto fino alla Rocca Direttori, sede della provincia, occupandone simbolicamente i giardini, un gesto significativo teso a chiedere prevenzione e sicurezza. Studenti in agitazione anche a Roma, le immagini. Tutti insieme, vamo paura, tutti insieme, vamo paura, tutti insieme. Cambiare la scuola per cambiare il paese. Questo è lo slogan che abbiamo lanciato come rete di studenti media e ognuno degli universitari, perché vogliamo che la scuola ritorni al centro di quella che è la questione politica di questo governo. Abbiamo una scuola che non è più quello che dovrebbe essere, manca il diritto allo studio, manca una risoluzione sull'edilizia scolastica e mancano idee complessi di cosa deve essere l'alternanza scuola-lavoro, mancano i criteri minimi affinché questa non sia sfruttamento. Noi scendiamo in piazza perché vogliamo un paese più giusto e più equi, perché vogliamo essere ascoltati, perché noi sappiamo qual è la scuola che serve a questo paese. Oggi, come Unione degli Studenti, siamo in 70 piazze in tutta Italia contro l'alternanza sfruttamento. Vogliamo uno statuto dei diritti delle studentesse e degli studenti e un codice etico per le aziende. Oggi è il momento del riscatto. Oggi gli studenti non fanno l'alternanza scuola-lavoro e scendono in piazza per il loro diritto. Siamo alla pagina della cronaca. Un pregiudicato di 53 anni, Ciro Orazio, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era a bordo dell'auto del figlio, una Fiat Panda. L'agguato si è consumato nella serata di giovedì a Lettere nel Napoletano. L'uomo originario di Casola di Napoli con precedenti per droga e violazione della legge sulle armi è stato avvicinato dai sicari che probabilmente lo attendevano e che hanno esploso al suo indirizzo diversi colpi di pistola, ferendolo in maniera letale alla testa. Al luogo dell'agguato, la strada provinciale di Lettere, al momento l'ipotesi di un'azione di Camorra viene considerata poco probabile dagli investigatori. Dopo la rissa, il questore ha sequestrato il locale, il provvedimento a Teleseterme, esercizio pubblico chiuso per 15 giorni. I dettagli. Chiuso un esercizio pubblico di Teleseterme. 15 giorni di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento amministrativo disposto dal questore di Benevento Giuseppe Bellassai trova origine nella comunicazione di una notizia di reato del commissariato di polizia locale relativa alla denuncia in stato di libertà a carico di quattro giovani avventori del locale che si sono resi responsabili del reato di rissa. Dalla comunicazione è stato rilevato infatti che nella nottata dello scorso 8 ottobre, da prima all'interno e successivamente all'esterno del locale, ha avuto luogo effettivamente una rissa, particolarmente violenta, che ha coinvolto almeno 5 clienti del locale. Dalle indagini svolte dal personale del commissariato, attestata la presenza di persone dedicate all'uso di sostanze stupefacenti e in evidente stato di ebrezza, il questore in qualità di autorità provinciale e di pubblica sicurezza, al fine di ristabilire la pacifica convivenza sociale e ripristinare l'ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto la chiusura del locale, con l'apposito provvedimento amministrativo in base all'articolo 100 del testo unico. Minorenni e Movida, controlli e provvedimenti anche a Salerno e provincia. Il servizio. I finanziari del gruppo di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, hanno eseguito controlli su un ampio numero di locali notturni e nei principali luoghi di aggregazione dei giovani salernitani, al fine di prevenire e contrastare la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori. I controlli traggono origine da alcune segnalazioni pervenute alla Procura e sono stati inquadrati in una serie di misure volte alla tutela dei minori da fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche. In tale contesto, la Guardia di Finanza durante l'estate, appena trascorsa, ha predisposto specifici servizi volti a prevenire e contrastare tale fenomeno. Il lavoro svolto ha consentito di rilevare e sanzionare diverse illecite cessioni di alcolici a favore di minorenni da parte di locali notturni della Movida salernitana. Soldi e ricariche per foto e video erotici, ma anche richieste di prestazioni sessuali studentesse minorenni adescate via web, inchiesta avviata a Napoli. Il servizio. Un'inchiesta è stata avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli per fare luce su un presunto giro di foto erotiche, video e sesso in cambio di denaro che vedrebbero protagonisti sul web adulti e studentesse minorenni. Gli inquirenti hanno delegato l'attività investigativa alla Polizia Postale che ha acquisito le documentazioni relative alle chat in cui gli utenti accedevano utilizzando un profilo appositamente creato di una persona inesistente. Si tratta di 5 conversazioni di oltre 50 pagine, nelle quali i clienti prendevano contatto con le ragazze e molte del liceo Umberto di Napoli, inizialmente per conversare per poi passare a richieste di carattere più scabbroso. La chat era suddivisa in gruppi. Una volta avuto accesso al sistema di messaggistica, si poteva sceglierne uno e cominciare a colloquiare. Grazie ad un profilo civetta si è scoperto che molte giovani ragazze di Napoli erano capaci di vendersi agli adulti per poche decine di euro, anche per una ricarica. Da un'intervista emerge che alcune ragazzine avrebbero ottenuto denaro anche facendo spogliarelli utilizzando le webcam delle console per giochi. E a proposito di tecnologia, detenuto scoperto a mandare messaggi su Facebook dal carcere l'operazione degli agenti penitenziari in servizio nella struttura per minori di Airola. Sentiamo. Dalla sua cella del carcere minorile di Airola interveniva tranquillamente sul proprio profilo Facebook. È stato così che la polizia penitenziaria ha trovato e sequestrato un telefono cellulare nella disponibilità di un detenuto. A dare notizie è donato capece al segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe. Ai dipartimenti della giustizia minorile e dell'amministrazione penitenziaria, spiega il sindacalista, chiediamo interventi concreti come la dotazione ai reparti di polizia penitenziaria di adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l'indebito uso di telefoni cellulari o altra strumentazione elettronica da parte dei detenuti nei penitenziari italiani. Il Sappe ricorda che sulla questione relativa all'utilizzo abusivo di telefoni cellulari e di altra strumentazione tecnologica che può permettere comunicazioni non consentite, è ormai indifferibile adottare tutti quegli interventi che mettano in grado la polizia penitenziaria di contrastare la rapida innovazione tecnologica e la continua miniaturizzazione degli apparecchi, che risultano sempre meno rilevabili con i normali strumenti di controllo. Proprio per sollicitare interventi concreti, uomini e mezzi per la polizia penitenziaria, il Sappe di Airola ha partecipato con la consulta sicurezza alla manifestazione a Roma davanti alla Camera dei Deputati in piazza Montecitorio. Lo scambio accidentale delle due neonate prontamente identificato e corretto è avvenuto nel corso della regolare degenza delle pazienti che sono state dimesse il giorno 12 ottobre con le figlie legittime. Lo precisa in una nota il professor Vittorio Fineschi, presidente del Comitato Valutazione Sinistri della Clinica di Avellino, in relazione al caso delle due neonate nate lunedì scorso e consegnate per errore a madri diverse. Fineschi sottolinea anche che la vicenda è nata dall'erronea lettura del codice identificativo da parte del personale medico e ribadendo come si sia trattato di mero errore umano. 35 arresti, 10 tonnellate di sigarette sequestrate per 2 milioni di euro. è il bilancio della lotta al contrabbando compiuto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Sentiamo. Per contrastare il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha disposto una capillare intensificazione dei servizi di contrasto attuati sull'intero territorio provinciale. Il monitoraggio di talune aree geografiche ricadenti nella circoscrizione di servizio della compagnia di Nola ha consentito ai finanzieri dall'inizio dell'anno di sequestrare complessivamente circa 10 tonnellate di sigarette di contrabbando tra le più note marche riperibili nel mercato illegale, sia cittadino che dell'intera provincia napoletana. Le fiamme gialle e nolane nell'ambito della complessa attività eseguita e durante i numerosi interventi operati hanno individuato i flussi di rifornimento dall'est Europa, scoperto vari depositi, controllato i movimenti e accertato le modalità operative poste in essere dai contrabandieri. Questi, al fine di ridurre al minimo le eventuali perdite legate ai possibili sequestri effettuati dalle forze di polizia, smerciavano i tabacchi di contrabbando nei diversi comuni della provincia, frazionandoli in numerosi carichi di piccole dimensioni. Al termine delle attività di contrasto sono stati arrestati complessivamente 35 responsabili, ulteriori 14 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria competente, ponendo sotto sequestro circa 10 tonnellate di sigarette di contrabbando dal valore di mercato stimabile in oltre 2 milioni di euro. Esulta Giorgio Magliocca, nuovo presidente della provincia di Caserta, e con lui Forza Italia per l'inattesa vittoria delle elezioni provinciali di Caserta, rabbia e polemiche nel PD a tutti i livelli territoriali per una vittoria che sembrava portata di mano con Carlo Marino, esponente di punta del partito casertano, nonché sindaco della città capoluogo. Una vittoria sfumata per le profonde spaccature interne e per un'alleanza di centrosinistra. Il sindaco di Pignataro Maggiore, in passato finito in carcere per reati di Camorra, da cui poi è stato completamente assolto, ha affermato con orgoglio che è stata una vittoria schiacciante che oggi non mi sorprende. Dal canto suo Marino ha parlato di una sconfitta provocata da pratiche di malaffare politico. Cosa fare in caso di alluvioni, terremoto o maremoto? I volontari daranno semplici consigli, io non rischio. Appuntamento sabato 14 ottobre nelle piazze dei capoluoghi, iniziativa anche a Benevento ed è stata presentata a Palazzo Mosti. Sentiamo. Tra i capoluoghi di provincia italiani anche Benevento sabato 14 ottobre la città ospiterà Io non rischio, la campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile per diffondere la cultura della prevenzione per sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico e sul rischio alluvione. L'evento è stato presentato presso l'aula consigliare di Palazzo Mosti. I cittadini avranno la possibilità di venire in contatto e quindi di conoscere quelli che sono i rischi, parliamo di terremoto, parliamo di alluvione, che potrebbero, io non voglio, interessare le nostre zone e come affrontarli perlomeno in quelli che sono gli elementi essenziali. E chi meglio degli operatori di volontariato nell'ambito della protezione civile possono interloquire e far capire ai cittadini di Benevento e della provincia cosa fare nella maledetta ipotesi di questi eventi. I volontari accompagneranno la cittadinanza in un percorso legato alla conoscenza dei rischi specifici del territorio e alla memoria dei luoghi. Devo dire che Benevento è orgogliosa di ospitare una piazza di onor rischio e soprattutto Benevento ringrazia, ripeto, le associazioni di volontariato che hanno tanto lavorato per la realizzazione di questo evento e ci dà una certezza. Noi speriamo sempre che non accada nulla, ma come amministratore, come assessore della protezione civile di Benevento, devo dire che ove mai dovesse venire qualcosa la nostra comunità deve essere tranquilla perché sicuramente i coloro che offrono il loro tempo gratuitamente e si formano per sostenere i cittadini sarebbero in grado di dare una grossa mano alla nostra comunità. Presenti alla conferenza stampa i rappresentanti delle associazioni che hanno promosso l'evento nel capologo Sannita, Protezione Civile, Misericordia, Lares, Nucleo Provinciale Cives di Benevento, ma anche la Protezione Civile di Bucciano, Airola, Lampas di Castelpoto, la Misericordia di Montesarchio e il Cireneo di Santa Gata dei Goti. Per scoprire quindi cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio di terremoto e alluvione, l'appuntamento è in piazza. Nella giornata di sabato, dalle 10 di mattina alle 22 della sera, ci saranno varie iniziative che saranno collocate in Piazza Roma, ci saranno 7 gazebo nei quali si farà un percorso nella storia di questi eventi catastrofici che hanno legato la città di Benevento e la provincia di Benevento a eventi dannosi. Ci sarà quest'anno, siccome è particolare questo evento e quindi per decisione della Protezione Civile si farà uno solo per ogni provincia, saranno le iniziative fatte con delle manifestazioni tipo ci sarà un trekking cittadino che ha il compito di percorrere i vari luoghi che sono stati toccati da questi eventi catastrofici, saranno fatti vedere alla cittadinanza, ci sarà una caccia al tesoro che mira a coinvolgere soprattutto i bambini, ma grazie ai bambini, anche ai genitori, agli adulti, quindi far capire cosa si può fare per limitare i danni e ci sarà una sala multimediale anche sempre all'interno di Piazza Roma con due infopoint che fanno il compito di convogliare le persone verso Piazza Roma. Oggi al Belvedere di Ravello è stato celebrato il matrimonio di Marianna Pascale, sorella di Francesca che assieme al compagno e leader politico Silvio Berlusconi ha fatto da testimone di nozze. La cerimonia civile è stata condotta da Domenico Di Siano, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. Silvio Berlusconi, quando è arrivato a Ravello, ha ricevuto un presepe in omaggio da un artigiano di Pagani nel Salernitano. Siamo ora alla pagina sportiva Roma da Scudetto in caso di successo sul Napoli. Ambire e migliorarsi deve essere un piacere, non un peso, ma ne riparliamo di nuovo se dovessimo vincere. Eusebio Di Francesco dribbla così la domanda sulle ambizioni della Roma e sottolinea che un risultato positivo può dare maggiore convinzione a una delle due squadre. Chi perderà invece, si riferisce dunque anche al Napoli, sarà penalizzato anche dal punto di vista psicologico. La gara Ellas-Verona-Benevento è in programma lunedì 16 ottobre, ore 20.45. È stata affidata a Marco Di Bello di Brindisi, il direttore di gara pugliese. Sarà assistito da Passeri e Bottegoni, quarto ufficiale Saia, Addetti Var, Giacomelli e Illuzzi. Siamo alla Serie B, attesa per il derby Avellino-Salenitana. La questura ha disposto misure di sicurezza. Una partita tra i pulcini farà da prologo al derby campano. Sarà una partita tra i pulcini delle due società ad aprire il derby tra Avellino-Salenitana, posticipo della nona giornata del campionato di Serie B in programma allo Stadio Partenio-Lombardi, domenica alle 17.30. Saranno poi gli stessi giovanissimi calciatori a leggere un messaggio sui valori dello sport prima dell'ingresso delle due squadre in campo. Sul fronte delle misure organizzative, la questura del capologo, assieme ai responsabili dei due sodalizi, ha predisposto controlli capillari e stringenti per accedere allo stadio. In particolare, i tifosi vengono invitati a recarsi allo stadio con un documento di identità, in quanto non sarà consentito l'accesso all'interno dell'impianto, in mancanza della verifica del nominativo indicato sul biglietto del possessore. I tifosi sono anche invitati a portarsi allo stadio con congruo anticipo per evitare che il maggiore flusso si concentri allo stesso orario e per evitare prevedibili e lunghe code. Per i tifosi in arrivo da Salerno, la questura di Avellino ha predisposto un percorso controllato e verifiche per non consentire a chi è privo di tagliando di raggiungere lo stadio. I controlli già avviati hanno consentito di individuare i tifosi che, contravvenendo alle misure dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, avevano acquistato biglietti di settori diversi da quelli riservati ai supporter Granata. I tagliandi sono stati invalidati. Ed era questo l'ultimo servizio. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi lascio alla nostra programmazione. Arrivederci. Grazie a tutti. Buon fine settimana a tutti gli appassionati de IlMeteo.it. Previsioni per sabato 14 ottobre. Bellissima giornata di sole sull'Italia, tuttavia con qualche nebbia mattutina e con locali addensamenti sulle regioni settentrionali. Ecco il dettaglio elaborato come di consueto da IlMeteo.it. Al nord, al mattino, locali foschie sulla pianura padana e qualche isolato addensamento sulla Liguria e sulle coste del Triveneto. Ampio soleggiamento nel pomeriggio, con cielo quasi del tutto sereno ovunque. Spostiamoci ora al centro. Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata sull'Alta Toscana. Poi, nella seconda parte della giornata, tutto sole ovunque e cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, sulla Sardegna. Raggiungiamo infine il sud. Anche qui sarà una splendida giornata in compagnia del bel tempo stabile e soleggiato, salvo per occasionali e innocui addensamenti, sui rilievi calabresi. I venti saranno deboli, localmente moderati, in prevalenza di maestrale. Temperature in locale aumento. Le minime infatti saranno comprese tra i 7 e i 18 gradi su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo valori termici quasi estivi, con punte di 29 gradi al nord, fino a 25 gradi al centro e 26 gradi al sud.